Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord in Consiglio, oggi due temi al centro in aula, l'Aller, abbiamo visto anche l'intervento del Governatore Maroni e la fusione dei comuni, si è arrivati ad una proposta di 9 possibilità di fusione. Sì, partiamo da Aller che mi sembra la questione sicuramente più urgente, più importante, molto significativa, apprezzato l'intervento del Governatore Maroni che ha sollevato la questione dei debiti di Aller a Milano e ovviamente ha proposto con la due diligence il fatto di assolutamente fare una mappatura della società e delle società partecipate e purtroppo è arrivato alla considerazione che ci sono tantissimi problemi. Questo rapporto è stato consegnato oggi al Consiglio, dal Consiglio attraverso la Commissione dovremo ovviamente prenderne atto e lavorare per fare una legge che assolutamente intervenga sull'organizzazione di Aller per far sì che in futuro non possano più accadere certe cose. I temi sono tanti, valorizzazione del patrimonio, manutenzione, criteri per l'assegnazione, insomma sono tante le questioni ma bisogna soprattutto lavorare sull'organizzazione per far sì, ripeto, che in futuro questa società che ha una grandissima funzione sociale possa davvero avere, diciamo così, il pareggio di bilancio. La fusione dei comuni c'è stato un referendum nel mese di dicembre? Sì, sì, sono diverse le richieste di referendum che sono arrivate, referendum si sono tenuti in un'unica giornata, referendum day, per creare anche naturalmente un risparmio per evitare spreco di danno pubblico e naturalmente noi abbiamo preso una posizione molto chiara che è quello di rispetto della volontà popolare. Nonostante non crediamo, noi della Lega non abbiamo mai creduto alle fusioni tra i comuni, però rispettiamo ovviamente la volontà popolare, c'è stato un referendum dove ci sono stati tutti sì, diremo sì, daremo il nostro voto favorevole, dove ci sono stati anche un solo no, diremo, daremo parere negativo. Ecco, c'è da dire che su una ventina di referendum più della metà ha avuto un esito negativo, quindi questo ci deve far riflettere, per cui probabilmente la classe politica chiede di fare le fusioni quando i cittadini non sono d'accordo. Va fatta una legge di modifica che consente in futuro che non sia più possibile che sia la politica a decidere sulle fusioni, che facciano la richiesta alla metà più uno degli aventi diritto. Allora a quel punto avremo davvero la volontà popolare che corrisponderà inevitabilmente a quello che è un esito referendario.